Diffamò un suo concittadino nel corso di una diretta Facebook e questa l'ipotesi di reato per cui il giudice ha deciso il rinvio a giudizio del vice sindaco di Sapri, Daniele Congiusti. I fatti risalgono alla primavera del 2020, quando si era nel pieno dell'emergenza Covid e nel golfo di Policastro si registrarono i primi casi di contagio. Erano i giorni in cui la tensione e la paura scoppiarono, in particolar modo tra Sapri e Vibonati, dove erano localizzati positivi e quarantene. In quel periodo, durante una seguita diretta Facebook di Sapri Live, in cui intervenne il sindaco di Sapri per chiarire alla popolazione la situazione epidemiologica nel comune, Congiusti rilasciò due commenti relativi al titolare delle pompe funebri Amedeo Noviello, all'epoca dei fatti non positivo ma in quarantena come contatto di caso. Scrisse infatti, in questo momento Amedeo Novelli è stato visto nella sala mortuaria dell'ospedale di Sapri. E ancora, mi stanno chiamando infermieri terrorizzati dall'ospedale. Secondo il giudice, con queste due frasi postate durante una trasmissione condivisa da migliaia di utenti, 13.000 like, il vice sindaco si legge nel decreto di citazione, comunicando dunque con più persone, offendeva l'onore e la reputazione di Noviello, insinuando che questi fossi affetto da Covid-19 e fosse tuttavia presente nella locale sala mortuaria, esponendo a pericolo di contagio i presenti. A seguito di tali frasi, la persona offesa ha presentato denuncia e ha fatto scattare le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio di Congiusti. Ora la giustizia dovrà avvaiare quanto accaduto. Il processo inizierà il prossimo 22 ottobre presso il Tribunale di Lago Negro.